La Regione Campania ha finanziato sette interventi di messa in sicurezza di strade regionali ricadenti in vari comuni della provincia di Salerno per un totale di 3.552.814 euro. Il finanziamento è in attuazione della delibera Cipe 54-2016 e Regione Campania DGR 104-2018 per lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale. Si tratta di lavori di messa in sicurezza, dichiara il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, di ripristino e ricostruzione di opere di sostegno su varie strade di interesse regionale che necessitano di manutenzione straordinaria per oltre 3.550.000 euro. Gli interventi riguardano innanzitutto la ex strada statale SR 488C nel tratto ricadente nel comune di Castel Sallorenzo e di collegamento con il comune di Felitto. Poi altri lavori sono previsti sulla SP 6, SP 384, SP 434 e SP 298 nell'agro Nocerino Sarnese. Un intervento invece interessa a Piazza Virgilio, alla frazione Palinuro del comune di Centola, un altro la SP 3 nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino. Altri lavori invece riguardano la SP 29, tratte ricadenti nei comprensori comunali di Battipaglia olevano sul Tusciano, Monte Corvino, Rovella. Poi la sistemazione del percorso alternativo alla SR ex SS 164 per Acerno, strada comunale ricadente nel territorio del comune di Monte Corvino-Rovella denominata Maccarone-Rapezze. Infine lavori anche sulla SP 11A, SP 11B nei comuni di Capaccio, Albanella e Roccadaspide, tra il nodo con la SS 18 e la SS 166, stralcio ricadente nel comune di Roccadaspide. La provincia di Salerno, attraverso il settore viabilità e trasporti, diretto da Domenico Ranensi, ha lavorato ai progetti esecutivi per ogni singolo intervento poi inviato alla Regione Campania per il finanziamento. Abbiamo ricevuto proprio in questi giorni i decreti regionali che ci assegnano i fondi, a cui seguiranno le gare con cui la Regione Campania procederà ad aggiudicare i lavori. A breve potremo consegnare i cantieri.